Ciao a tutti raga, oggi vi portiamo insieme alla Bea El Gabri all'esplorazione di una villa che nel mondo urbex viene chiamata Villa Usi e Costumi. Dicono che al suo interno ci siano diversi costumi fatti probabilmente dai proprietari della villa e comunque tanta diversa roba interessante. Noi adesso siamo praticamente sul posto, entriamo, ci vediamo direttamente dentro, però fermati un secondo, prima di iniziare iscriviti al canale, metti like e scrivimi nel commento come ti è sembrato il video. Ci vediamo alla prossima raga, vi salutano anche Gabri e Bea, bella, fatemi sapere com'è il video, ciao raga. Ok raga, siamo dentro, qua c'è l'ingresso, qua sulla sinistra si inizia subito con la cucina, ma sono piatti. Madonna, ma che brutti, certo che potevano appenderli con qualche colorazione. Qua per terra raga sembra quasi alcol, una borraccia, sì c'è un po' di tutto qua per terra, come vedete anche l'intonaco sta cadendo. Qua ci sono dei numeri di telefono e sicuramente raga ci abitava una signora anziana, sia come vedete dalla scrittura e anche dalla dimensione dei caratteri. del 1988 raga, eh sì, 88 gennaio, minchia, 35 anni, sì, ma questo è del 98 invece, il miracolo delle noci. Un piccolo cucinino, come vedete c'è rimasta ancora della roba, a prima impressione sicuramente ci abitavano comunque delle persone anziane qua dentro. Poi guardate qua il sale, cioè, boh, cioè, stranissimo, ma avete visto il sale raga? Mamma mia, che strano, sembra quasi che si sia solidificato in una cosa sola, madonna, guardate qua, c'è la strappente anche le ragnatele, ci sono ragnatele dappertutto. Guardate qui raga, come vedete ci sono ancora, tipo, sembrano delle olive quelle lì, c'è ancora del cibo, delle candeline. Sì, guardate la quantità di ragnatele raga, e qui altra roba probabilmente della famiglia che ci abitava. Proseguiamo raga, sempre attentissime alle ragnatele, qua c'è un piccolo bagno, dove c'è ancora la crema per i capelli, al midollo di bue, si prosegue, e qua si arriva, sì, alla cantina. Guardate qua quanta roba! Le scarpe, il tamburello, come diceva la Bea, viva Sandro Assicurazioni! C'è un liquorino? Un liquore digestivo. Un digestivo? Guardate quanta roba raga! Mamma caro, ma ce n'è veramente tantissima di roba! Ne è rimasto un bel po', devo dire. qua si prosegue, e qua, e qua, e qua c'è la vera cantina raga, guardate lì quante bottiglie di vino, 77, 78, ce ne sono diverse dell'86, ma cantina privata del proprio... calendario del 73, cioè raga, un calendario del 73, cioè, mamma mia, 73 oggi avrebbero 50 anni, 53 anni, sì. No, 50 anni, 73, 2024, 51 anni. Guardate qua, ancora gli scatoloni con tutte le bottiglie dentro. Eh, gli piaceva bere il vino a questi, eh! Guardate qua, raga, c'è il volto di Gesù Cristo. Wow! E poi c'è anche il perborato di sodio. Devo dire che questo, al regalo di mio padre della torcia, merita. Ne? Proseguiamo il tour della casa, raga. Qui c'è un sottoscala, come vedete. E qui si va di sopra. Devo dire che ultimamente le scale che stiamo trovando sono sempre ottime scale. C'è un super specchio qua, raga, con pochissima polvere. Ecco, questa cosa, devo dire, che fa abbastanza ansia, no? Fa abbastanza ansia. Ma mamma mia, ora qua, raga. Che fa anche scena con tutta la carta da parati che sta cadendo. Qua dobbiamo stare attenti che diamo sulla strada. Guardate! No, vabbè. Vita al microscopio. Poi lì c'è anche un qualcosa scritto a mano, raga. Guardate qua. La scrittura è sicuramente molto, molto bella. Dall'altra parte, devo dire una cosa, non riesco a capire. Qua c'è un'altra testa dell'anatroccolo, del papero. Andiamo fuori, raga. E la... Guardate qua che rovina che dà sulla strada. Molto... fa molto effetto questo, eh. Guardate qua. Ah, proprio qua sta crescendo la pianta dentro l'edificio. Meraviglia. Spettacolo, insomma. Qua altra roba accatastata, raga. Guardate qua. Divano. Qui ci sono ancora delle medicine. Anche qua troviamo delle medicine. Dei materassi. Qui da sul fuori, raga, guardate. Dei gomitoli di lana. Britain in brief. Libro di civiltà e di lettura inglesi. Madonna, ma c'è veramente, veramente tanta, tanta roba ancora. Non pensavo, sono sincero, quando mi hanno detto di questa villa di trovare ancora così tanti oggetti. Ok, raggiungiamo gli altri. Non prima di esserci soffermati un attimo a vedere questa culla stile anni 50. Guardate che bella. Bella, 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 veramente. Proseguiamo il nostro tour, raga. Accechiamo il gabari. Qui c'è una stanza che sicuramente hanno cercato di dargli fuoco. Guardate che bello. Guardate che bello. Wow. Che bell'abito lì. Tutto bruciato lì. C'è un piccolo Santa Claus. Qua, il solito armadio stile anni 70. Sì, guardate le valigie, raga. Guarda, anche qua questo vestito non l'avevo visto. Simile cambia solo il colore rispetto all'altro. Proseguiamo. Qui c'è il bagno, raga. Con una vasca da bagno incredibile. Il lampadario carino, molto carino, devo dire, questo bagno qua. Sviluppato per il lungo. E qua, probabilmente, c'è la camera da letto. Moquette per terra. Guardate qua, raga. Tutti i libri. Coralino. Di canti cancioni. Manuale di canto sacro per i fedeli. Una bambolina. Una rubrica. Qua c'è una bellissima cartolina, raga. Del 70. Giusto per farci capire. Guardate la coperta. Ombra, anche la carta parata è figa. Mi piace, mi piace sta casetta qua. Mi piace, raga. Questa qua cos'è? Una luce, sì? No, è il proiettore. Ah, è il proiettore questo qua, è vero. È vero, apri, è vero. Giusto, giusto. Non avevo capito. È giusto, è giusto. Termoforo con valvola termostatica. Ah, ah, e io non avevo visto neanche questo. Che era quasi a tema. Era quasi a tema per la Befana, anche. Bello. Raga, esplorazione finita. Stiamo andando alla macchina. Come vedete, piccola, breve e intensa. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Raga, andiamo a casa finalmente. Ci vediamo. Ciao.